Musica Oggi 6 dicembre si è inaugurata la terza edizione dei mercatini di Natale ad Assisi nell'evento La Magia del Natale, organizzata dai ragazzi dell'associazione Assisiti. Proseguirà il 7 e l'8 dicembre e saranno giorni ricchi di eventi, di intrattenimento per grandi e piccini, di concerti e concluderà l'8 dicembre con l'arrivo di Babbo Natale che distribuirà doni a tutti i bambini. Musica 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 Musica